Lanciamo il Trebbiano d'Abruzzo. Lanciamo il territorio abruzzese. Sì, sì, gira. Un omaggio doveroso perché è un territorio che ha subito una ferita indelebile e pertanto va rilanciato anche dal punto di vista produttivo. Ci tenevo oggi a essere qui. Queste le parole del Premier Giuseppe Conte durante la visita allo Spazio Abruzzo al Vinitali di Verona. Conte si è intrattenuto a parlare con alcuni produttori abruzzesi, in particolare con l'imprenditrice Chiara Ciavolic, accompagnato dal Vice Presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente. Ed insieme hanno sorseggiato un bicchiere di Trebbiano d'Abruzzo. È un passaggio, anche un omaggio doveroso perché è un territorio che ha subito una ferita importante e va rilanciato anche dal punto di vista produttivo. A Verona la Regione è presente con 115 cantine e 400 etichette. Il comparto, ha detto il Vice Presidente della Giunta e Assessore all'Agricoltura Imprudente, è in crescita, in particolare per l'export. Il vino abruzzese è un vino di altissima qualità, è un vino che sta dando delle grandi soddisfazioni. In un momento in cui c'è un attimo di difficoltà nel resto d'Italia, il vino abruzzese invece guadagna posizioni e segna un dato positivo rispetto a tutto il resto d'Italia. Segno che in questi anni c'è stata la capacità di trasformarsi, di adeguarsi ai mercati e di fare la qualità. L'impegno di questa nuova amministrazione è l'impegno di portare avanti ancora con più determinazione quelle che sono le attività e quelle che sono le capacità che fino ad oggi sono state messe in campo, soprattutto lanciando un messaggio che è quello del brand Abruzzo. Il brand Abruzzo cosa significa? Significa che il vino che è l'ambasciatore dell'Abruzzo, insieme all'olio, insieme a tutti i prodotti tipici, all'agroalimentare, alla patata del fusion e all'interno del resto, dobbiamo costruire quel marchio che è il marchio dell'Abruzzo, che è il marchio del mangiabere, del bere bene, è il marchio della qualità delle acque, la qualità dell'aria, è il marchio di una regione dei parchi e quindi tutto ciò che esce dall'Abruzzo è segno di qualità assoluta. Se saremo capaci, e questo è il progetto ambizioso che abbiamo, di far conoscere l'Abruzzo nella sua necessità come elemento vero per far sì che ci possa essere un'azione congiunta dove all'interno ognuno avrà i propri spazi, Grazie a tutti.